Lui ti porta qui dai culi, però è più offro. Mettete la prova, provarci, e lo speriamo qui in precedenza. Devo ripetere sempre le solite cose. Ovviamente abbiamo delle regole precise, sono per play, e in questo devo ringraziare Guido, che ha dimostrato. Grazie a tutti. 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 per... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.